E' completa, completa. Siete curiosi di vederla? Che cosa sceglie? Perché poi è giunato, Siti. La stanza quella che era a metà, la tenda, che mancavano ancora quelle cose. Siete pronti, pronti? Giro la camera. 3, 2, 1, a voi. Ve la ricordate, no? Qui c'è il puff, lo sapete, con il cuscino, l'armadio, qui cosa mancava? Il divano, il quadro, l'avevo messo alla lucina, quindi questa sarà la nuova postazione live, che le live saranno ormai fatte qui. Qui ci sono sempre il frigo, ma vi giro verso quella tenda, che vi ho fatto vedere l'altro giorno, ve la vi faccio vedere, perché c'è una cosa in più accanto, che mancava, scelta. Le tendine nuove, va bene, lo sapete? Guardate che meraviglia. Guardate che carino quest'armadio a specchi. Guardate, io non mi faccio vedere, logicamente. Guardate che meraviglia, ragazzi. E se voi notate, cemento, cemento, come la paretina attrezzata, che vi ho fatto vedere, non so perché sta vedendo giallo, che vi ho fatto vedere l'altro giorno, ecco, è tornata a luce normale. Adore che meraviglia. Ah, questa è la famosissima tenda, che, guardate, schiocco di t***o, vedete? È diventata una porta. Questa è la paretina attrezzata. Eh, questa è la camera, che vi ho parlato, appunto, l'altro giorno. Vi piace? Guardate che meraviglia, ragazzi. Nuovo angolo della nostra casa, quello è l'angolo live, divano comodissimo. Siete tutti qui, nella nostra nuova abitazione. Abitazione, la nostra nuova location, no? La nostra nuova ambiente, scelto, vabbè, comunque. Mettete un like se vi piace, fateci sapere se anche voi avreste fatto le nostre stesse scelte. Adoro.